Nuova edizione di Spazio Notizia, rieccoci su Sicilia 24. Apriamo parlando del vaiolo delle scimmie, c'è un altro caso in Sicilia, si trova ricoverato in isolamento all'ospedale San Marco di Catania, un paziente al quale è stato riscontrato come detto il vaiolo delle scimmie. A renderlo noto è Gaetano Sirna, direttore generale dell'azienda ospedaliero universitaria Rodolico San Marco. Martedì 5 luglio al pronto soccorso del presidio Rodolico, afferma Sirna, si è presentato un uomo rientrato da poco dall'estero con sintomi che hanno fatto subito pensare a un sospetto caso di vaiolo delle scimmie. Il paziente è stato immediatamente preso in carico dal personale sanitario e trattato secondo i protocolli previsti in questi casi. La diagnosi relativa alla presenza di virus è stata confermata da esami di laboratorio. Le condizioni cliniche del paziente sono discrete con quadro clinico tipico. Tengo a precisare, conclude Sirna, che si tratta di un caso di importazione della malattia e quindi non di contagio avvenuto nel territorio etneo. La malattia, tra l'altro, si trasmette non per via aerea ma per contatti stretti. Torniamo a occuparci invece della tragedia avvenuta a Shalmer Sheikh perché ci sono delle novità. La tragedia che ci ha colpito segnerà per sempre la vita delle nostre famiglie, una ferita che ci porteremo a lungo. Lo dice Roberto Manosperti, zio materno del piccolo Andrea Mirabile, il bambino di sei anni morto per cause ancora da chiarire a Sharm, dove era in vacanza con i genitori. Antonio Mirabile, padre del piccolo Andrea, è sempre ricoverato in terapia intensiva anche se le sue condizioni sembrano migliorare. Sta meglio anche la mamma del piccolo, Rosalia Manosperti, incinta di quattro mesi. Restano ancora un mistero invece le cause della morte del bambino avvenuta nel giro di 36 ore dalla manifestazione dei primi sintomi. Roberto Manosperti lancia infine un nuovo appello. Mi rivolgo a tutte le istituzioni e autorità competenti affinché si possano adoperare per fare rientrare a casa mia sorella, che voglio ricordare incinta, e mio cognato dopo questa immane tragedia che li ha colpiti. La farnesina intanto è già stata informata, così come l'ambasciata italiana in Egitto. Tutti hanno assicurato che una volta migliorate le condizioni del papà del bimbo ancora ricoverato in ospedale, la famiglia verrà trasferita a Palermo a spese dello Stato. E purtroppo ci tocca parlare di un altro incidente mortale sulle strade siciliane, stavolta un tragico incidente nel Trapanese tra un'auto e un furgone, Andrea Parrinello, ingegnere di 47 anni, ha perso la vita sulla statale 115 fra Strasatti e Mazzara del Vallo nel territorio di Petrosino. Lo scontro purtroppo è stato fatale per il 47enne e sono stati inutili i tentativi di soccorso. Ancora da chiarire le dinamiche del sinistro, l'unica certezza al momento è che quel tratto della statale 115 è già stato teatro in passato di incidenti mortali. Cambiamo ancora argomento, la polizia di Noto ha arrestato una coppia di ladri seriali. Vediamo il servizio. Una coppia di ladri seriali che avrebbe messo a segno 5 furti e una rapina nel giro di pochi mesi è stata scoperta dalla polizia di Stato a Noto. Gli agenti della mobile di Siracusa e del commissariato di Avola hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di un uomo di 25 anni e una donna di 32, che dispone rispettivamente la custodia degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico e la misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. La coppia, che talvolta operava insieme, altre volte singolarmente, secondo le indagini avrebbe emesso a segno i colpi dal settembre al dicembre scorso. I furti sono stati perpetrati ai danni di alcuni supermercati di Siracusa e di Avola nonché dell'autogrill dell'autostrada Catania-Siracusa, mentre la rapina è stata commessa all'interno di un'attività commerciale di Siracusa. Le indagini della polizia, coordinate dalla procura, hanno consentito di individuare i due, peraltro già conosciuti alle forze dell'ordine, per essere stati in passato accusati di reati analoghi. I filmati dei sistemi di videosorveglianza, presenti nei pressi dei luoghi nei quali sono stati consumati i reati, hanno consentito agli inquirenti di identificare i due indagati che sono stati rintracciati a noto dai poliziotti che hanno eseguito i provvedimenti giudiziari. Ci spostiamo a Catania. I carabinieri della stazione Nesima, unitamente ai colleghi del Nucleo Ispettorato del Lavoro del XII Regimento Sicilia e con l'ausilio di personale della Polizia Municipale di Catania, sono stati impegnati in un servizio di contrasto all'illegalità diffusa nelle aree maggiormente degradate della città. I militari in particolare hanno concentrato le loro attività in piazza Montepò, procedendo a verificare, tra le altre, l'attività commerciale ambulante dedita alla vendita di prodotti ittici di proprietà di un 49enne catanese. Emerso che il titolare avrebbe occupato abusivamente il suolo pubblico, posto in vendita a prodotti ittici in assenza di specifica autorizzazione, esercitato alla vendita ambulante in assenza dei requisiti professionali e impiegato alle proprie dipendenze un lavoratore in nero, per settore, tra l'altro, del reddito di cittadinanza. L'accertamento ha portato al sequestro di circa 100 kg di prodotto ittico per cattiva conservazione e al sanzionamento del 49enne per un totale di oltre 7.800 euro. Adesso invece cambiamo ancora argomento, ma parliamo di cronaca. A Palermo, un ispettore dell'Inps, aveva due lavori, ma ne dichiarava soltanto uno. Per questo motivo è stato denunciato per truffa. I finanzieri del Comando Provinciale di Palermo hanno dato esecuzione a un decreto di sequestro preventivo d'urgenza emesso dalla Procura della Repubblica di Palermo per un valore complessivo di circa 96.000 euro corrispondente al profitto del reato di truffa in danno dell'Inps. Le indagini dei finanzieri del nucleo di Polizia Economico-Finanziaria con la collaborazione della Direzione Provinciale dell'Inps hanno consentito di ipotizzare che l'indagato, dipendente del citato istituto con qualifica di ispettore di vigilanza, avrebbe sottaciuto una collaborazione professionale continuativa con uno studio legale. Il dipendente pubblico ha omesso di comunicare all'Inps la propria attività per evitare il transito al ruolo amministrativo in modalità part-time nel citato ente, che avrebbe comportato una diminuzione del 50% dello stipendio e la perdita dell'indennità connessa alla funzione di ispettore. In esecuzione del citato provvedimento cautelare, successivamente convalidato dal GIP del Tribunale di Palermo, sono state sottoposte a sequestro disponibilità finanziarie dell'indagato fino alla concorrenza di quasi 96.000 euro, pari alla differenza tra quanto effettivamente percepito dal soggetto in qualità di ispettore di vigilanza a partire dal 1 gennaio 2018 e quanto sarebbe stato in realtà aspettante in caso di rapporto lavorativo in modalità part-time. A Donna Lucata, frazione marinara di Scicli, siamo quindi nel Ragusano, un pensionato è stato arrestato poiché coltivava in casa marijuana. Vediamo il servizio. I carabinieri della compagnia di Modica sono stati impegnati in mirati servizi di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti. In tale contesto operativo i militari della stazione di Donna Lucata hanno arrestato per coltivazione illegale di marijuana un 73enne di origine romana, celibe, pensionato e incensurato. I carabinieri, infatti venuti a conoscenza attraverso precedenti servizi di osservazione dell'esistenza di una vera e propria piantagione domestica coltivata dal soggetto presso la propria abitazione nella frazione di Cava Daliga lo hanno sottoposto a perquisizione personale e domiciliare. L'attività ha portato al rinvenimento di 182 piantine di marijuana di altezza variabile, dai 40 centimetri fino ai 2 metri, tutte piantumate in un'aiuola ricavata dall'uomo nel giardino pertinente all'abitazione. Le piante sono state estirpate, sequestrate e inviate all'ASP di Ragusa per le analisi finalizzate a stabilirne la natura, la categoria di appartenenza e soprattutto la percentuale di principio attivo. Dalla sostanza stupefacente, opportunamente siccata e lavorata, sarebbero state ricavate circa 100.000 dosi che avrebbero fruttato sul mercato illegale circa 500.000 euro. Il soggetto, a seguito della convalida dell'arresto dopo la restrizione ai domiciliari, è stato posto in libertà come disposto dall'autorità giudiziaria Iblea. A Trapani un uomo evade più volte dai domiciliari e per lui si sono aperte le porte del carcere. I carabinieri della stazione di Trapani-Borgo Annunziata hanno tratto in arresto, in esecuzione di un'ordinanza di aggravamento pena emessa dalla Corte di Appello di Palermo, un 38enne trapanese. L'uomo, arrestato diverse volte dai carabinieri nell'ultimo periodo, avrebbe violato in varie occasioni la misura alternativa dei domiciliari cui era sottoposto, tanto da rendere necessario la sostituzione della stessa con quella più afflittiva della detenzione in carcere. Il 38enne, oltre a essere stato arrestato in flagranza di reato per furto in abitazione, furto in attività commerciale in pieno giorno nella centralissima via Marconi e ricettazione, risulta essere uno dei quattro presunti autori del furto della cassaforte situata all'interno del comune di Trapani, fatto avvenuto nel gennaio del 2018. L'arrestato, espletate le formalità procedurali, è stato associato presso la casa circondariale Pietro Cerulli di Trapani. Contagi in aumento, ma meno ospedalizzazioni e quanto emerge dall'ultimo bollettino settimanale Covid diramato dalla regione siciliana. Vediamolo. Nella settimana, dal 27 giugno al 3 luglio, si registra ancora un incremento delle nuove infezioni in linea con la tendenza nel territorio nazionale. L'incidenza di nuovi positivi è pari al più 43,54%. Il tasso di nuovi positivi più elevato rispetto alla media regionale si è registrato nelle province di Siracusa, Catania, Palermo e Messina. Le fasce d'età maggiormente a rischio risultano quelle tra i 60 e i 69 anni e tra i 45 e i 59 anni. Le nuove ospedalizzazioni sono in lieve diminuzione. Circa la metà dei pazienti in ospedale nella settimana di riferimento risultano al sistema non vaccinati. Si conferma pertanto anche nella settimana di monitoraggio appena trascorsa una situazione epidemica acuta con un'incidenza ancora elevata ma un'ospedalizzazione in proporzione più contenuta. L'epidemia rimane in una fase delicata con un livello significativo di diffusione virale e una ricaduta sulle nuove ospedalizzazioni ma più contenuta rispetto ai periodi precedenti, in parte spiegata dal riscontro occasionale di positività concomitante al ricovero. Per quanto riguarda la campagna vaccinale i dati riportati fanno riferimento alla settimana dal 29 giugno al 5 luglio. Nella fascia d'età 5-11 anni i vaccinati con almeno una dose si attestano al 27,25% mentre hanno completato il ciclo primario 72.310 bambini pari al 23,46%. Gli over 12 vaccinati con una dose si attestano al 90,60% ha completato il ciclo primario l'89,31% del target regionale. Complessivamente i vaccinati con terza dose sono 2.742.982 pari al 72,34% degli aventi diritto. Risultano ancora 1.048.804 aventi diritto alla somministrazione booster che non hanno ricevuto la dose. Dal 1 marzo è iniziata la somministrazione della quarta dose agli over 12 con marcata compromissione della risposta immunitaria e che hanno già completato il ciclo vaccinale primario con tre dosi da almeno 120 giorni. Dal 12 aprile la somministrazione della quarta dose è stata estesa agli over 80 ospiti di presidi residenziali per anziani e ai soggetti tra i 60 e 80 anni affetti da condizioni di particolare fragilità che hanno ricevuto la terza dose da oltre 120 giorni senza intercorsa infezione da covid. Dal 1 marzo sono state effettuate complessivamente 37.570 somministrazioni di quarta dose di cui 27.020 a soggetti over 80. Ed ora una notizia da Salemi incentivare l'adozione dei cani randaggi ritrovati sul territorio comunale. Questo l'obiettivo del regolamento di adozione dei migliori amici dell'uomo approvato dal consiglio comunale di Salemi siamo nel Trapanese prevede sgravi sull'Atari per chi decide di adottare un cane ospitato presso il rifugio socio-sanitario del comune o in altre strutture convenzionate con l'ente il regolamento disciplina le modalità per l'ottenimento dello sconto della tassa sui rifiuti che avrà un limite massimo di 350 euro e che non sarà accumulabile con altre iniziative che prevedono sconti sullo stesso tipo di tributo l'approvazione del regolamento è una splendida notizia commenta il sindaco di Salemi Domenico Venuti da parte mia un plauso a questa iniziativa consigliare ed ora invece a Palermo per parlare del grande caldo dunque della situazione meteo la protezione civile regionale infatti ha diffuso il bollettino per rischio incendi e ondate di calore valido per la giornata di oggi e proprio a Palermo è previsto il livello di allerta massimo il livello 3 colore rosso con una temperatura massima percepita di 35 gradi previsione in decrescita per domani venerdì 8 luglio con il rischio di ondate di calore che si attesta invece a livello 1 in discesa anche la temperatura massima percepita che dovrebbe essere di 33 gradi per quanto riguarda il rischio di incendi per la giornata di oggi nella provincia di Palermo è media la pericolosità prevista con livello di preallerta colore arancione e con questa notizia ci fermiamo per il momento è tutto non ci sono aggiornamenti ma ovviamente ci ritroviamo più tardi su Sicilia 24 grazie a tutti Grazie.